Da oggi sono tornati tutti in classe i 140.000 studenti della regione. A sette mesi dall'ultimo giorno trascorso in classe l'emozione del primo giorno, la gioia di ritrovarsi più forte e dei timori per le regole anti-covid. Al centro studi di Udine sarà realizzata una tensostruttura nel parco condiviso dagli istituti Zanon, Marinelli e Malignani, una palestra all'aperto che consentirà agli studenti di fare sport ai tempi del coronavirus. La guardia di finanza di Pordenone ha scoperto un finto commercialista che negli anni si era appropriato di 400.000 euro dati dai suoi assistiti per pagare le imposte, indagati anche due clienti imprenditori. Entro un mese si concluderanno i lavori per la realizzazione del terzo lotto della terza corsia della 4. Il cantiere è avviato nell'aprile del 2017 e chiuderà con quasi un anno di anticipo sul previsto. Debutterà domenica macerata l'Itas Cittafiera Martignaco, la sua terza stagione in A2, oggi la presentazione della squadra che mira a salvarsi con anticipo per tentare l'accesso ai play-off. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Le ultime lezioni subito prima delle vacanze di Carnevale a febbraio. Oggi sono finalmente tornati tutti sui banchi i 140.000 studenti del Friuli Venezia Giulia. Dunque davvero prima campanella per tutti. Tante emozioni in questa giornata nella quale gli studenti hanno scoperto che la gioia di ritrovarsi vale più di tutte le paure, tutte le preoccupazioni per le regole anti-Covid. Da oggi sono tutti rientrati in classe gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Dopo la prova generale dei corsi di recupero e l'avvio anticipato delle lezioni in alcuni istituti, oggi la campanella ha suonato per 141.000 bambini e ragazzi della regione. Un atteso e sudato ritorno sui banchi lasciati in Friuli Venezia Giulia quasi sette mesi fa in occasione della chiusura delle scuole per Carnevale a fine febbraio. Dalle feste in maschera appunto alle mascherine indossate oggi dagli studenti ma anche dagli accompagnatori. Si torna in classe all'insegna delle nuove regole anti-Covid, indicazioni riportate nelle varie circolari destinate alle famiglie. Le ultime sono arrivate ieri sera con informazioni aggiornate sugli accessi negli istituti e in molti casi ripetute questa mattina a gran voce dai responsabili dei plessi fuori dalle scuole dove si sono dati appuntamento allievi e genitori. Per tutti nuove regole a partire dalla misurazione della temperatura corporea a casa, poi gli accessi scaglionati in fasce orarie diverse oppure da ingressi distinti. Anche tutto quanto accade all'interno degli istituti è regolamentato. Agli insegnanti oggi il compito di ricordare tutte le novità e soprattutto di accompagnare bambini e ragazzi verso la tanto agognata normalità. Tra i tanti cambiamenti restano più o meno invariate le emozioni del primo giorno, forse più forti e profonde per la particolarità di questo inizio di anno scolastico. Se tanti sorrisi sono rimasti nascosti dietro alle mascherine, traditi però dagli sguardi, si sono viste molte lacrime di gioia e di commozione, questa volta non solo dei genitori, in particolare delle mamme, ma anche degli insegnanti. Si diceva dei genitori che hanno accompagnato i bambini in questo primo importante giorno di scuola per loro tanta emozione e la gioia di poter finalmente riportare i bambini in classe. Primo giorno di scuola per una mamma, dopo un lungo lockdown come ti senti? Molto emozionata, devo dire la verità, e non vedevamo l'ora che si tornasse a una specie di normalità, i bambini non vedevano l'ora anche perché questo lockdown ha comportato squilibri anche nelle famiglie, nervosismi, agitazione. Emozionata, felice per il rientro a scuola di tutti i bambini, speriamo che quest'anno possa essere migliore dello scorso e siamo fiduciosi nella scuola e tutti quelli che ci aiuteranno ci staranno vicini. Un giorno tanto atteso, un giorno di festa per i genitori, è così? Sicuramente, soprattutto per loro che almeno mio figlio era felicissimo di ritornare a scuola, rivedere gli amici, la maestra, riprendere un po' le cose che si facevano prima. Qualcuno ha iniziato prima e quindi forse anche altri potevano seguire lo stesso esempio. Un altro problema adesso è la chiusura di nuovo delle scuole per il referendum. Anche lì ci siamo chiesti molti perché non trovare soluzioni alternative, forse si poteva. Ci sono tante regole da rispettare ma sinceramente credo che più problematici siamo noi genitori, che i bambini si adattano molto più facilmente alle regole di quanto ci adattiamo noi genitori. Si inizia positivi però sappiamo bene che noi siamo in quattro in famiglia, due che lavorano e due che vanno a scuola. Basta che un elemento in un ambiente di lavoro, di scuola, abbia un problema che purtroppo si rischia di chiudere tutta la classe. Questo lo sappiamo. Si diceva proprio dello spirito di adattamento di bambini e ragazzi che insomma alla fine hanno reagito bene, hanno scoperto come la gioia di ritrovarsi conti più di tutti, anche di tutto, anche in questo particolarissimo avvio di anno scolastico. Allora li abbiamo sentiti alcuni bambini e ragazzini. Di solito per il rispetto della privacy rendiamo non riconoscibili i volti dei minori ma in questo primo giorno di scuola così speciale ci sembrava davvero un peccato nascondere le loro emozioni. Allora abbiamo pensato a questa soluzione con il consenso naturalmente dei genitori. Abbiamo raccolto le impressioni a caldo di alcuni bimbi, figli appunto di chi lavora qui a Telefriuli. Sei contento di rivedere i tuoi compagni in classe? Un po'. Che cos'hai al collo? Una mascherina. Ma con un'invenzione particolare che cos'è? Un portamascherina. L'idea di chi è stata? Della mamma. Così quando devo togliere, quando me la metto è così. E quando vai indossata la mascherina? Quando siamo in classe in piedi. Fra pochissimo entri in classe, dopo quasi sette mesi sei contenta? Sì, molto perché rivedrò i miei compagni e le mie maestre. Hai paura del coronavirus? No, anche se lo odio. Perché per colpa sua non sono potuta andare a scuola e non ho potuto vedere i miei amici. Qual è allora la sensazione di tornare a scuola dopo quasi sette mesi? Sono molto contento, rivedo tutti i miei amici. È una bella sensazione, sì. Che classe farai? Io andrò in prima media. Io sono contento molto. Com'è stata l'esperienza della didattica a distanza? La didattica a distanza è stata un'impresa, è stata utile però, ci ha aiutato di andare un minimo avanti col programma. Cosa ti aspetti da questo primo giorno di scuola? Mi aspetto nuovi compagni, mi aspetto soprattutto una bella giornata. Finalmente è arrivato questo 16 settembre, non vedo l'ora di ritornare alla scuola, vedo i miei compagni e le mie maestre. E allora abbiamo sentito i genitori, abbiamo sentito i ragazzi, è il momento di dare la parola anche ai dirigenti scolastici, abbiamo sentito i presidi dello Stellini e del Marinelli di Udine. C'è anche un'interessante novità che riguarda il problema delle palestre, una soluzione che sarà adottata al centro studi. Devo dire la verità, le cose sono andate bene perché i ragazzi hanno rispettato quelle che erano le indicazioni che abbiamo dato loro nei giorni scorsi, quindi sono entrati attraverso i sei varchi di cui ci siamo dotati, sono usciti attraverso gli stessi varchi, hanno rispettato i tempi anche delle ricreazioni, hanno indossato le mascherine e pertanto insomma il giudizio è complessivamente molto positivo. La prima classe in cui sono entrato è una prima E dove abbiamo 33 studenti, quindi una classe particolarmente numerosa, ho voluto cominciare con loro proprio per far sentire la vicinanza della scuola, li abbiamo dotati di un'aula molto confortevole, quindi insomma volevo cominciare con loro perché con i ragazzi più piccoli, una classe così numerosa, ho voluto far sentire subito la mia vicinanza. Io ho chiesto loro ma siete contenti di venire a scuola? E tutti mi hanno detto sì ed era un sì sincero e sinceramente non era una domanda banale e anche la risposta non è stata banale. Oggi abbiamo accolto gli studenti e soprattutto abbiamo dedicato la mattinata a spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare in questa nuova scuola. Il Marinelli è organizzato in 11 bolle, cioè vuole dire 11 spazi, 11 corridoi che non sono collegati tra di loro ma sono collegati solo dagli spazi esterni, questo evidentemente ai fini del tracciamento qualora ci fosse qualche difficoltà dovuto al coronavirus. Abbiamo un gravissimo problema delle palestre e a questo punto l'EDR, il nuovo ente territoriale, ci monterà una tenso struttura all'aperto nel prato che c'è tra le tre scuole, Malignani e Marinali Zanon, dove potremo fare, almeno nei mesi più caldi, insomma almeno finché sarà possibile, potremo fare attività all'aperto. Dalle tabelline sugli scalini ai gradi degli angoli sotto le porte che si aprono e si chiudono. La nuova scuola primaria di Pradamano ha festeggiato oggi con emozione doppia il ritorno sui banchi degli alunni e l'inaugurazione dei suoi spazi innovativi. C'erano anche l'assessore regionale ai trasporti Pizzimenti e la consigliera regionale del PD Santoro. Doppia emozione oggi a Pradamano, il ritorno tra i banchi e il taglio del nastro per inaugurazione della scuola primaria, nuovissima, basata su concetti innovativi, dove anche i muri, le scale e gli ambienti dove i ragazzi vivono possono insegnare. Oggi abbiamo inaugurato un anno scolastico, ma abbiamo inaugurato una struttura che dopo un anno e mezzo di lavori ha ottenuto un adeguamento antisismico, un efficientemente energetico grazie ai contributi dell'Unione Europea e del Ministero e continuerà a svolgere la sua funzione in una maniera differente poiché abbiamo voluto creare una struttura che parli ai bambini, che dia vita, dia vivacità anche a tutti quanti quelli che sono i ragazzi che la frequenteranno negli anni futuri. È un rientro tra mille dubbi e mille incertezze, però è un rientro. Il ritrovarsi è sempre qualcosa che dopo tanto tempo in solitudine, diciamo così, è sempre qualcosa che dà emozione, dà gioia. È un anno scolastico di speranza questo. Test importante, il primo giorno di scuola anche sul fronte dei trasporti. Ne abbiamo parlato con l'assessore Pizzimenti. È stata una battaglia, devo dire, abbastanza anche feroce e dura, con un confronto ma anche corretto dal punto di vista istituzionale con il governo. Però così forse ce la facciamo, anzi io ne sono sicuro. Prima era praticamente impossibile, col 50% era praticamente impossibile portare i studenti da casa a scuola. È difficile, sarà qualche disagio sicuramente questo inizio d'anno, ma siamo molto fiduciosi che tutto poi andrà bene. Diciamo che con l'80% dovremmo essere abbastanza bene, forse qualche caso puntuale, ma insomma sotto controllo. Forse ancora di più sarà il problema dell'urbano più che dell'estero urbano. Ci sono comunque ancora dei problemi da risolvere sul fronte dei trasporti. Alcuni comuni si sono trovati spiazzati, all'ultimo, poco prima dell'avvio dell'anno scolastico, non sono riusciti ad attivare i servizi. E questo si è verificato in diversi comuni una situazione rispetto alla quale continueremo a tenere alta l'attenzione. Intanto oggi è arrivato l'esito dei tamponi per i 115 studenti del liceo Buonarroti di Monfalcone, testati dopo il caso di positività di un professore. Tutti negativi per il vicegovernatore Riccardi. Il lavoro dei dipartimenti di prevenzione è enorme. Le istituzioni sono al fianco dei dirigenti scolastici. Sentiamolo. I dipartimenti di prevenzione stanno facendo un lavoro straordinario. Io colgo l'occasione anche per ringraziarli. Diciamo che cominciamo con i problemi che erano ovviamente anche messi in conto, però almeno diciamo che c'è una buona notizia. Perché oggi il liceo Buonarroti c'è l'esito dei tamponi dei 115 ragazzi e sono tutti negativi. Quindi c'è questo lavoro importante che conferma lo straordinario sforzo e ci dà questi risultati positivi. Può darsi che alcuni risultati nel tempo si possano anche presentare in maniera negativa, ma se si dovessero fermare a quello che è l'intensità del contagio, possono essere governati con tranquillità. Quindi il sistema è allertato, noi siamo in piena operatività, cerchiamo di fronteggiare i problemi affrontandoli uno alla volta con il buon senso, l'equilibrio, senza drammatizzare ma nemmeno sottovalutare, ricordando a tutti che le misure precauzionali che ormai sono note devono essere rispettate. Un messaggio ai dirigenti scolastici? È uno sforzo, una scommessa che dobbiamo fare tutti insieme. Io auguro buon lavoro a tutto il sistema scolastico. Insieme con l'assessore Rosoling abbiamo fatto un lavoro importante. Ovviamente noi saremo al loro fianco, anche davanti a delle decisioni che possono essere difficili. Quindi un sistema si deve unire nel momento delle difficoltà. Io credo che anche essere riusciti ad aprire tra le mille difficoltà, sulle quali per me sarebbe facile fare anche una polemica politica, ma evito di farla perché non serve a nessuno, l'importante è che il sistema sia unito. Se il sistema sarà unito, affrontando i problemi, io sono convinto che ce la faremo. La regione ha confermato che una studentessa dell'Isis, Dante Alighieri di Gorizia, è stata posta in quarantena in attesa di eseguire il tampone dopo essere entrata in contatto con una persona positiva che non frequenta la scuola. Se il tampone dovesse dare esito positivo, la SUGI attuerà le necessarie misure previste in questi casi, tra le quali anche il tracciamento dei contatti. Se sarà negativa, non saranno effettuate ulteriori indagini diagnostiche. Sono risultati negativi al coronavirus i sei lavoratori dell'Electrolux di Porcia messi in quarantena nei giorni scorsi e sono stati riammessi al lavoro. Si rasserena il clima all'Electrolux di Porcia. Sono risultati tutti negativi e quindi sono stati riammessi al lavoro i sei dipendenti messi nei giorni scorsi in quarantena fiduciaria a casa dopo che due loro colleghi sono risultati positivi al coronavirus. Nei giorni scorsi era emerso condipendente già a casa dai primi giorni di settembre per aver manifestato i sintomi. Aveva contratto il virus e tre persone erano state messe in quarantena. Successivamente una di loro era risultata positiva e altri quattro lavoratori erano stati allontanati dall'azienda. Questo, spiega Valtra Zocolan della RSU dell'Electrolux di Porcia, fuga la possibilità che ci sia un focolaio da noi. Ora aspettiamo l'esito dei tamponi effettuati su due dipendenti di una ditta esterna che si occupavano di manutenzioni vicino al luogo dove lavoravano le due persone positive e che per precauzione sono state messe in quarantena. L'azienda sanitaria, prosegue, non ha ritenuto di imporre il confinamento per i dipendenti dell'Electrolux ma l'azienda, anche su nostra pressione, l'ha comunque disposto. Oggi poi l'azienda sanitaria ha compiuto un sopralluogo e ha ritenuto che i comportamenti adottati nello stabilimento sono coerenti con i protocolli anti-Covid. Protocolli, aggiunge Zocolan, pensati proprio dalle parti all'Electrolux e diventati linee guida a livello nazionale e questo, conclude, è grande motivo d'orgoglio. Oggi sono stati rilevati 29 nuovi contagi al coronavirus. Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 617, due più di ieri, tre i pazienti in terapia intensiva, 22 quelli ricoverati in altri reparti. Un residente su dieci in regione è stato sottoposto al tampone dal 1 maggio al 31 agosto. Sono stati oltre 263 mila i monitoraggi effettuati. Il dato è emerso oggi a Trieste nel corso della seduta della terza commissione consigliare, durante la quale Riccardi ha parlato anche della capacità produttiva dei laboratori. Questa potrebbe essere ulteriormente incrementata di 2500 unità, qualora la struttura commissariale completasse la fornitura delle apparecchiature messe a disposizione. Lutto nel piccolo paese di San Leonardo, nelle valli del Natisone, per la morte di Michael, un bambino di soli 5 anni. Il suo cuore ha smesso di battere a causa di una malattia incurabile che lo aveva colpito un anno fa. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grave lutto, dice a Telefriuli il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro. Non ci sono parole in momenti come questi. La comunità è vicina ai parenti del piccolo. Non faremo mancare il nostro affetto. La comunità attende di dare ora l'ultimo saluto al suo piccolo angelo. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15.30 nella chiesa del paese. E non ce l'ha fatta il sub di Trieste di 37 anni, che sabato era stato colpito da un malore dopo un'immersione nella zona di Caravella a Sistiana Mare. L'uomo Gianni Cergol era stato rianimato sulla riva per due volte dal personale sanitario. Poi la corsa in ospedale, oggi la notizia della sua morte. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo. Stamattina alle 5.30 in una falegnameria di Castelnuovo del Friuli. Per causa in corso d'accertamento si è sviluppato un incendio che ha interessato un macchinario della produzione. Le fiamme sono state contenute dai pompieri. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Principio di incendio nel centro di Monfalcone. Questa mattina in Piazza Cavour durante il mercato. Una persona ha incendiato alcuni rami secchi ma poi non è stata in grado di governare le fiamme. Si trovava in una pertinenza della sua proprietà. Preso dal panico ha gettato dell'acqua sul cumulo di verdi e rami causando la produzione di una notevole quantità di fumo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La guardia di finanza di Pordenone ha scovato un finto commercialista che negli anni si è appropriato di 400 mila euro. Gli erano stati affidati dai suoi clienti per il pagamento delle tasse. La guardia di finanza di Pordenone ha scoperto un finto commercialista che si sarebbe appropriato di 400 mila euro versati dai clienti per il pagamento delle imposte. Indagati anche due imprenditori suoi clienti, uno dei quali è finito i domiciliari, per emissione e utilizzo di fatture false. Sono questi i risultati di un'indagine condotta dal nucleo di polizia economica e finanziaria della città sul noncello, su delega della procura pordenonese, che ha denunciato un uomo per esercizio abusivo dalla professione di commercialista, oltre che per i reati di falso e appropriazione in debita. L'uomo è accusato di aver svolto per anni senza titoli e abilitazioni la professione attraverso un centro di elaborazione date abilitato solamente alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di più, incammerava il denaro ricevuto dagli assistiti, 25 persone, alcune delle quali hanno presentato formale querela, fornendo loro attestazioni di pagamenti all'erario modificate per coprire gli omessi versamenti. Le appropriazioni in debita montano a circa 400 mila euro. Il finto commercialista, inoltre, è risultato essere un evasore totale e dal 2014 al 2018 avrebbe occultato al fisco oltre un milione di euro di ricavi non dichiarati. Le fiamme gialle poi hanno condotto indagini anche sui clienti, la gran parte dei quali è risultata mera parte lesa. Altri, però, occultavano i propri redditi in maniera fraudolenta. In particolare, una società operante nel settore del web marketing non avrebbe dichiarato ricavi per oltre 2 milioni di euro contabilizzando fatture inesistenti pari a 900 mila euro. Su richiesta della procura, il GIP di Pordenone ha messo un decreto di sequestro preventivo per 413 mila euro pari al profitto conseguito mediante il mancato pagamento delle imposte. Indagati, due rappresentanti della società, per uno dei quali è stata disposta la custodia cautelare ai domiciliari per aver aggredito in un locale pubblico e mandato all'ospedale il finto commercialista ritenendolo responsabile dell'attività di ispezione della Guardia di Finanza. Entro un mese si concluderanno i lavori per la realizzazione del terzo lotto della terza corsia della 4, il tratto Alvisopoli-Gonars, iniziati nell'aprile del 2017. L'assessore regionale Infrastrutture e Trasporti, Graziano Pizzimenti, ha effettuato questa mattina un sopralluogo al cantiere approfittando della necessità di firmare in qualità di soggetto attuatore alcuni atti amministrativi. Oltre al direttore operativo di Autovie Enrico Razzini, al direttore dei lavori Denis Padoani, negli uffici era presente anche Marco De'Eccheri, rappresentanza del consorzio Tilia Ventum che sta eseguendo i lavori. Siamo molto soddisfatti del risultato che stiamo per conseguire, ha affermato Razzini, siamo ora all'atto finale dell'otto, ma fin d'ora ringraziamo il consorzio per l'impegno profuso. Un concetto espresso anche dall'assessore e soggetto attuatore Pizzimenti, mi è capitato di vedere opere pubbliche in questi anni di esperienza amministrativa, ma i livelli raggiunti in questo caso sono enormi, ha commentato. Portare a termine l'opera con grande anticipo significa che c'è stata sinergia tra stazione appaltante e impresa. Attualmente la terza corsia è già percorribile su tutto il tratto al Visopoli-Gonars, mentre è ancora attivo un cantiere mobile centrale indispensabile per la finitura dei New Jersey, visto che il traffico dei vacanzieri è in esaurimento, si lavorerà ora anche durante i fine settimana. Gli operatori della sanità privata del Friuli Venezia Giulia questa mattina hanno manifestato di fronte al palazzo del governo di Udine. Sono loro a spiegare le ragioni di questa mobilitazione. Una remunerazione inferiore rispetto a chi opera nel settore pubblico è un contratto di lavoro fermo al 2008. Queste le motivazioni che hanno spinto gli operatori sanitari privati del Friuli Venezia Giulia a scendere in piazza per far valere i propri diritti. Dobbiamo ricordare quanto queste aziende private che lavorano nella sanità hanno fatto profitti grazie ai soldi pubblici che sono stati dati loro. A questo va aggiunto un incremento della tariffazione, chiaramente a favore della sanità pubblica, che è stato fatto in moltissime regioni. A questo va aggiunto che molte regioni stanno dando una fetta sempre maggiore del bilancio regionale alla sanità privata. Nonostante ciò, Aris e IOP comunque hanno deciso di non firmare. Oltretutto, in questo periodo di pandemia, i lavoratori della sanità privata erano fianco a fianco con i lavoratori della sanità pubblica, mettendo a repentaglio la loro vita, incolumità propria, dei loro familiari, avendo però una retribuzione completamente differente. Un operatore della sanità privata percepisce tra i 150 e i 200 euro in meno al mese rispetto all'analogo della sanità pubblica. Oltre a questo, alla sanità privata non sono stati nemmeno riconosciuti i premi Covid dati invece alla sanità pubblica. Siamo allo sport con il volley, domenica prima di campionato per la Libertas Martignaco, che riparte con tanta adrenalina ed energia positiva. Come ha detto il presidente Bulfoni, sarà un anno particolare senza lo storico presidente Ceccarelli e con una nuova capitana, Valentina Pascucci, che ha preso il posto di Lara Caravello. Il riferimento allo storico presidente Dino Ceccarelli è stato costante nella presentazione dell'ITAS Città Fiera Martignaco. Si è parlato di lui con il ricordo, con la costruzione della squadra stessa che è stata pensata con lui a giugno e anche con quello che è l'obiettivo per questa stagione. Coach Gazzotti lo ha diviso in due parti. Il primo era esserci, ricominciare dopo sette lunghi mesi a giocare. Il secondo è fare un passettino in più, conquistare come negli ultimi due anni in A2 la salvezza anticipata e magari provare ad accedere ai play-off. Le sensazioni sono senza atto positive, perché prima durante la presentazione ho parlato di adrenalina ed è veramente la benzina che serve a tutti gli atleti e le ragazze vedo che ce l'hanno negli occhi. Quindi questa è la buona partenza che bisogna avere. Domenica ci aspetta la prima di campionato. Senz'altro è una partita contro una squadra organizzata e un buon test per l'inizio della stagione. Una nuova capitana quest'anno al posto di Lara Caravello. All'inizio ero un po' forse preoccupata, perché comunque è difficile subentrare magari al posto di una ragazza come Lara, perché comunque è stata qui tantissimi anni, era il punto di riferimento del press. Però in verità sono fortunata, perché posso capitanare un gruppo di ragazze veramente tanto, tanto, tanto brave e intelligenti. E ho Cristina che mi aiuta in tutto, quindi diciamo che con lei siamo un po' tutti e due capitani. Colpo in mediana per il Pordenone, che comunica l'ingaggio del centrocampista Giacomo Calò. Il calciatore triestino, classe 97, arriva dal Genoa con la formula del prestito sino a giugno 2021. La Serie D 2020-2021 prende forma. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei nove gironi del campionato. Al via domenica 27 settembre con la prima giornata, la massima serie dilettantistica partirà col format a 166 squadre, divise in sette raggruppamenti da 18 e due da 20 gironi A e C. Le squadre friulane Chions, Charlene Smuzzano e Manzanese sono state inserite nel girone C. I calendari saranno presentati sabato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Noi ci fermiamo qui. Grazie come sempre per la vostra cortese. Attenzione, buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti.